Il forum ha una magia immensa, incredibile, non ce l'ho mai stato, non ero mai entrato al forum e per la prima volta entrarci e cantare su un palco così grande per la finale di X-Factor insomma è stato veramente forte, è un'emozione quella che ho provato insomma molto strana perché in un certo senso il pubblico te la restituisce, c'è un sacco di gente in ogni angolo e tutto quello che dai su quel palco in un certo modo il pubblico ne risente e te lo manifesta, è stato bellissimo Mi ha detto muoviti, 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 balla, scatenati su quel palco Ho preso in parola perché sia durante il best off che insomma durante poi l'inedito mi sono fatto un po' di corse sono andato un po' in tutti i diversi palchi e ho ballato abbastanza, tant'è che avevo pure il fiodore però insomma lei intendeva comunica tanto anche col corpo, col fisico c'era da coinvolgere il pubblico non solo con la voce ma anche col corpo quindi ho cercato di farlo chiami domani perché iniziamo a lavorare Guarda se chiudo gli occhi e penso a In A Name Of Love mi piacerebbe sentirlo, non lo so, magari per qualche... come se fosse un inno di una nazionale o come una colonna sonora di, non so, dell'Eurovision qualcosa di veramente forte, internazionale Forse è arrivato a casa la voglia che avevo di scatenarmi sul palco ieri, più delle altre volte era un misto tra... non tanto rabbia ma proprio voglia di esplodere su quel palco avevo la possibilità davvero di cantare al foro ho voluto sfruttare fino alla fine questa occasione gli ho dato il massimo sicuramente in questo massimo è arrivata tanta comunicazione quindi forse questo ha fatto sì che emergesse in totale un po' la voglia di portare un'emozione a casa quindi forse è stata questa la chiave giusta